Può qualcuno che non è dichiaratamente un fotografo professionista farsi retribuire per il proprio lavoro? Questa è una domanda che in molti mi hanno posto, esistono molte risposte diverse. Oggi vi dirò quello che ne penso in questo momento, perché questa è una risposta che dipende da molteplici fattori, come possono essere i mercati e come possono essere gli andamenti della società in cui ci troviamo a vivere. Non mi soffermerò tanto sull'aspetto fiscale in questo video, perché è un argomento che ho già trattato in un'altra puntata. Piuttosto andrò a parlarvi per contrasto di quello che succede immancabilmente nel momento in cui forniamo i nostri servizi a titolo completamente gratuito. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia. In particolare andremo a vedere che cosa succede nel momento in cui ci offriamo di lavorare gratis per chi che sia. Prima di cominciare voglio ricordare a tutti quanti fotografi o aspiranti tali che trovate tonnellate di materiale dedicato esclusivamente a voi sul mio canale, per cui il bottone iscriviti e qui sotto attivate anche la campanella così non vi perdete le notifiche che vi segnalano il caricamento di un nuovo contenuto. Mettete anche un like a questo video perché se da oggi in poi deciderete di farvi sempre pagare per i lavori che andate a svolgere sarà in parte merito mio. Molto bene, partiamo con il primo motivo per cui bisognerebbe sempre farsi pagare. Questa è una cosa che ho verificato sulla mia pelle, succede immancabilmente. Il 100% delle volte in cui noi andiamo a prestare il nostro lavoro a titolo gratuito, quello che succede nella testa del cliente è che si va a rafforzare la già presente e radicata convinzione che il nostro lavoro sia una cosa di scarso valore. Perché tenete conto che il cliente per cui noi stiamo lavorando gratis di certo i suoi servizi non li regala. Quindi il cliente sta pensando che se i suoi servizi valgono qualcosa i nostri decisamente no. Altrimenti alla richiesta di lavorare gratis avremmo risposto no o se non c'è stata nessuna richiesta mai e poi mai ci saremmo offerti noi di lavorare gratis per lui. Ovviamente dal fatto di non farsi retribuire per un lavoro che abbiamo svolto derivano tutta una serie di conseguenze, la più grave delle quali sul lungo periodo mi viene da pensare che sia proprio il fatto che non riusciamo a far crescere la nostra attività. Nel momento in cui io decido di comprarmi una nuova videocamera o un nuovo microfono o una nuova luce devo in qualche maniera finanziare la mia attività. Da dove li prendo i soldi se non mi faccio pagare per i lavori che faccio? Capite bene che nel momento in cui io mi faccio retribuire sono in grado di fare un salto di qualità, acquistare una nuova fotocamera, acquistare una nuova ottica, portare il mio lavoro a un livello successivo, cambiare computer, pagare le licenze degli abbonamenti che mi servono per lavorare, tutta una serie di cose. Se io tutto questo apparato non ce l'ho, se io tutte queste cose non le faccio il mio lavoro rimane sempre al medesimo livello. Attenzione il fatto di non avere i soldi per comprare strumentazione costosa non è l'unico danno. Noi non abbiamo nemmeno i soldi per investire sulla nostra formazione, quindi non è che sto parlando solo di comprare roba costosa, non abbiamo nemmeno i soldi per crescere a livello mentale, per crescere come professionisti, quindi questo è grave. Tenete conto che io stesso faccio dei corsi, cioè io elargisco dei corsi ma acquisto anche dei corsi, quindi se da un lato insegno dall'altro lato imparo, quindi cerco sempre di imparare qualcosa. Questi corsi a me non li regalano mica, non è che un mio cliente mi dice dai tu vieni a lavorare per me gratis così poi ti compri il corso che ti serve. Al cliente non gliene frega niente di quello che io devo fare ovviamente. Il cliente vuole soltanto che il lavoro costi meno possibile, però non stiamo facendo un favore alla nostra attività nel momento in cui accettiamo queste condizioni, perché se non siamo nemmeno in grado di progredire a livello professionale significa che la nostra attività non è un'attività. Un'altra cosa che succede purtroppo quasi sempre nel momento in cui io vado a fare un lavoro gratis è che il valore percepito dal cliente sarà prossimo allo zero. Cioè un cliente che vede che io vado a lavorare da lui in cambio di niente, nella sua testa sta pensando questo qui non è capace, questo qui mi farà un pessimo lavoro, questo qui è già tanto se non mi fa dei disastri. È questo che pensa un cliente. Voi immaginatevi se vi trovaste un idraulico che dice senti posso venire a casa tua a ripararti i tubi, ci metto un attimo, guarda non ti faccio pagare niente. Io avrei paura di una situazione del genere perché nella mia testa penserei primo allora questo mi vuole rubare in casa perché altrimenti cosa ci guadagna. Secondo anche avendo constatata la totale buona fede della persona che abbiamo di fronte il mio secondo pensiero è no no i miei tubi tu non li tocchi perché io quando quando chiamo l'idraulico voglio che venga uno bravo. Il pensiero è esattamente questo. Quindi nel momento in cui noi ci offriamo o accettiamo di andare a fare un lavoro in cambio di niente la percezione del cliente è questa. Il cliente sta pensando questo qui non è capace, questo qui è scarso, questo qui non ha nessuno che lo chiama e quindi se da un lato il cliente può anche dire vabbè io non ci perdo niente, lo faccio venire, mi faccio fare due cose, poi se sono buone le tengo e non lo chiamo mai più, se fanno schifo non lo chiamo mai più e basta. Il cliente non ci perde niente. Però non è questa l'immagine che vogliamo dare, non è nemmeno questa l'immagine che vogliamo proiettare su noi stessi perché anche noi somatizziamo questa cosa, cioè il fatto di essere andati lì per niente è una cosa che ci rimane addosso, è una cosa che non ci fa bene. Ne consegue direttamente una cosa che forse è ancora peggio. L'urgenza che noi percepiamo nell'elargire questa prestazione sarà molto bassa. Quindi il cliente percepisce un valore basso del nostro lavoro ma noi stessi percepiamo un'urgenza bassa nella consegna del nostro lavoro. Questo è un meccanismo automatico. Vi è mai capitato di avere due clienti che vi tampinano contemporaneamente e magari avete un cliente che sta spendendo 1000 euro e un cliente che ne sta spendendo 150? Va da sé che in quei casi, per sgradevole che sia, noi mettiamo in stand by il cliente da 100 euro e ci concentriamo esclusivamente sul cliente da 1000 euro. Questo lo fanno tutti, lo fa l'idraulico, lo faccio io, lo fa chiunque perché nel momento in cui un cliente paga di più è evidente che ha una priorità diversa. Ora, che priorità può avere nella nostra giornata, nella nostra settimana, nel nostro mese un cliente che paga zero? Un cliente che paga zero non ha nessuna priorità perché io devo guadagnarmi da vivere e quindi se arriva un altro cliente che mi dà un euro, il cliente da zero euro va automaticamente in stand by. Questo cosa significa però? Che io rischio, se il mio mindset è quello tanto io lavoro gratis, io rischio di portarmi a casa una serie di lavori gratuiti e a quel punto avrò una serie di clienti che mi rompono le scatole e quindi avrò il mio tempo ipotecato con clienti che mi fanno delle richieste. Quindi io devo anche far fronte a queste richieste in cambio di niente. Quindi io sto regalando il mio tempo a tot clienti in cambio di niente e la situazione diventa pesante perché a quel punto io sto lavorando come un matto senza guadagnare niente. La cosa peggiore che riesco a immaginare è molto meglio non lavorare se tanto dobbiamo incassare zero. Inoltre il punto è proprio che lavoreremo male. Andremo a realizzare il lavoro, non dico controvoglia, però non daremo il cento per cento perché tanto sappiamo che il cliente non paga e quindi nella nostra testa quel cliente non si può lamentare perché tanto se si lamenta noi gli possiamo dire vabbè non hai pagato niente che è sbagliatissimo. Noi anche se lo stiamo facendo gratis a quel punto per quanto sia sbagliato averlo preso gratis a quel punto lo dobbiamo far bene. Ovviamente questo ci porta anche a consolidare un'abitudine a lavorare in questo modo. Quindi noi ci abituiamo che il cliente non sta pagando, ci abituiamo che il cliente non si può lamentare perché lo sta ricevendo gratis e quindi quando arriverà un cliente vero che ci chiede un lavoro vero noi andremo con quel mindset di dire sì vabbè ma tanto come viene viene perché tanto è gratis e solo che quella volta lì non è gratis. Quella volta lì il cliente si arrabbia perché sta pagando. Per cui prendiamo tutta una serie di pessime abitudini nel momento in cui accettiamo dei lavori gratis. Tenete anche conto che nella mia esperienza un cliente che non ci paga un cliente che ha accettato di farci lavorare gratis perché un cliente serio dice no. Un cliente serio dice no non mi serve quindi niente. Un cliente che accetta di farci lavorare gratis non è un cliente serio. Non è un cliente perché un cliente è uno con cui si instaura una relazione di lavoro quindi io elargisco un servizio in cambio di denaro o in cambio di anche di scambio merci ma comunque c'è uno scambio. Nel momento in cui un cliente accetta che noi lavoriamo per lui gratis quello non è un cliente o comunque è un cliente di livello bassissimo e con un cliente di livello bassissimo faremo dei lavori di livello bassissimo perché se ha accettato di farci lavorare gratis vuol dire che è un cliente basso vuol dire che è un cliente con cui non è che possiamo sperare di innalzare la nostra attività. È un cliente che non ci porta da nessuna parte e anche qui consolidiamo l'abitudine a fare dei lavori bassi per un cliente basso e quindi difficilmente andremo a prenderci un cliente più alto perché ci assistiamo su quella fascia lì che è una fascia che non porta da nessuna parte perché uno che non ha soldi oggi non ce li avrà neanche domani e se anche ce li avesse perché dovrebbe darceli a noi. Abbiamo lavorato gratis fino all'altro ieri. Il cliente però è furbo. Una cosa che ho imparato e che è meglio imparare molto presto in questo lavoro è che il cliente è furbo. Può essere ignorante può essere tutto quello che volete ma è furbo è tremendamente furbo e appena capisce che siete nei guai perché se accettate di lavorare gratis vuol dire che siete nei guai oppure appena capisce che lo fate per hobby e se lo fate per hobby vuol dire comunque che in quel caso siete nei guai perché a questo punto siete nelle sue grinfie. Insomma quando il cliente capisce che può intortarvi e farvi lavorare gratis lo fa. Attenzione lo fa. Sempre attenzione se è un cliente basso. Il signor Ikea non accetterebbe mai di avere una persona che lavora gratis in un suo stabilimento in un suo negozio eccetera perché perché con un cliente alto come il signor Ikea se io vado a lavorare gratis per il signor Ikea e mi faccio male io a che titolo ero lì e quindi a che titolo mi sono fatto male e il signor Ikea passa un guaio. Quindi questa è una cosa che fanno solo i clienti bassi anche per questo motivo. Però ai clienti bassi a differenza del signor Ikea il signor Ikea è contentissimo di darmi 2000 euro al giorno per fare il mio lavoro perché sa non quello che vale il mio lavoro non gliene frega niente sa cosa ci perde se non lo fa. Signor Ikea sa benissimo quanto ci perde se non ci sono le foto dei prodotti sul catalogo e quindi è disposto a pagare per quella roba lì. Mentre un cliente basso probabilmente non ci perde niente senza le foto perché non le stava facendo prima o se le stava facendo da solo quindi non gli cambia veramente quasi nulla farsene fare da un fotografo dilettante o da un semiprofessionista oppure non farle del tutto. Però visto che già ci sta facendo lavorare gratis visto che già ci ha intortato a questo punto cercherà di farsi tornare i conti cercherà di dire va bene abbiamo intortato questo ragazzo questa ragazza volenteroso e gli facciamo fare un sacco di cose gli facciamo fare tutto il catalogo gli facciamo fare le foto della qualsiasi gli facciamo fare la gestione dei social media gli facciamo fare tutto quello che possiamo e poi ci lamentiamo anche lo facciamo sentire in colpa gli facciamo percepire che non sta facendo abbastanza gli facciamo percepire che non sta dando abbastanza da essere degno del riconoscimento di poter avere un giorno uno stipendio per il lavoro che sta facendo. Il cliente è molto bravo a fare questa cosa perché nel momento in cui si rende conto di avere a che fare con una persona abbastanza inesperta da accettare di lavorare gratis sa benissimo che quella persona è anche abbastanza inesperta da non saper giudicare il valore del proprio lavoro e quindi se ne approfitterà andrà a vellicare il senso di inferiorità del fotografo in questione quindi cercherà di fargli pesare ogni piccola mancanza gli farà sempre presente che si poteva fare di più con paragoni assurdi come per esempio ma sul sito di Ikea le foto sono meglio che è un'assurdità intanto perché le foto sul sito di Ikea non sono niente di che sono delle foto piattissime semplicissime con i prodotti belli messi lì però non sono delle belle foto sono foto fatte con un certo stile ma non sono belle sono semplicemente funzionali però il cliente è furbo il cliente ci dice sul sito di Ikea è meglio sul sito di Slunga è meglio così noi ci sentiamo in difetto e continuiamo a dirgli è finché non imparo continuo a fartelo gratis il cliente è bravissimo a fare questo giochino qui ci fa sentire in difetto questo lo fanno anche quando pagano anche quando pagano cercano di farti sentire in difetto perché ti dicono eh però si poteva fare di più devo pagare per forza la cifra intera la risposta è sì devi pagare la cifra intera se volevi di più pagavi il doppio te lo facevo uguale non era quello il problema è soltanto che sei tu che non hai voluto pagare il doppio e te lo dico in fase di preventivo le vuoi come quelle dell'Ikea costa tot le vuoi non come quelle dell'Ikea un po meno belle vuoi che te le faccia presso la tua sede quindi non ci sono tutti i fondalini le lucette eccetera te lo faccio pagare di meno ovviamente però a scelta tua ovviamente se siamo alle prime armi non abbiamo magari la prontezza di riflessi di dare una risposta così al cliente e attenzione con una risposta così sei anche preparato a perderlo quel cliente ma è sempre meglio perdere un cliente basso che comunque non ti pagava piuttosto che guadagnarlo perché a quel punto mi ritroverei a lavorare come un matto per un cliente che non mi paga e che ha delle pretese alte con la seria possibilità di perdermi magari un cliente più alto che arriva in seguito e che non ho tempo di servire perché le mie attenzioni sono tutte concentrate su quel cliente rompiscatole che mi tartassa di richieste perché tanto è gratis il discorso è proprio quello nel momento in cui è gratis e il cliente dice ma allora se io ti faccio fare una foto è gratis ma se te ne faccio fare dieci sono gratis se te ne faccio fare mille sono gratis allora a quel punto te ne faccio fare mille è evidente tanto costa uguale capito cosa voglio dire nel momento in cui è gratis il cliente non ha limiti nelle sue richieste e quindi ci farà tutte le richieste possibili e immaginabili e si aspetterà che vengano attese come se stesse sborsando la stessa cifra del signor Ikea in questo i clienti sono furbissimi quindi questa è veramente una situazione in cui è meglio non cadere l'ennesimo punto negativo è che se per sfiga cosmica il cliente dovesse fare una cosa inaudita ovvero segnalarci a un'altra attività limitrofa o a un conoscente un amico se il cliente dovesse segnalarci a qualcun altro può succedere a me è capitato nel corso della mia vita che col passaparola mi arrivassero altri clienti da un cliente per cui avevo lavorato o stavo lavorando succede ma se per sfiga cosmica il cliente che ci fa il passaparola è quello per cui stiamo lavorando gratis e ci arrivano altri clienti che lo vogliono gratis il lavoro o comunque ci arrivano altri clienti che vogliono pagare pochissimo cioè il massimo che può succedere è che un altro cliente sentendosi lui in imbarazzo dica vabbè però per me non le fai gratis almeno il caffè te lo offro questa è questa è la cosa migliore che possa succedere la cosa peggiore è che ci becchiamo veramente altri lavori gratis e a quel punto inanelliamo una collezione di clienti con delle esigenze alte vogliono tutti i prodotti sul sito come il signor Ikea però non pagano perché tanto le condizioni di partenza erano quelle non si pagava e quindi hanno accettato per quello è una situazione da incubo non credete ora veniamo al vero motivo per cui faccio questo video fondamentalmente un altro motivo per cui non bisognerebbe prendere dei lavori gratis è perché nel momento in cui stiamo prendendo un lavoro gratis dobbiamo anche ricordarci che lo stiamo togliendo a qualcun altro vedetela così io gratis non lavoro più quantomeno non per dei clienti ci può stare che io offra i miei servigi gratis a un amico a una persona per cui ho simpatia a un ex cliente che magari mi ha invitato a bere una cosa e lì per lì mi dice senti però potresti farmi uno scatto di questa cosa io può anche essere che gli dica tranquillo te la faccio così in amicizia può essere che sia io a dirlo sono casi molto circoscritti ovviamente si tratta di amicizie si tratta non di clienti innanzitutto si tratta di lavori con cui non mi pagherei il mese perché nel momento in cui un cliente mi dice guarda so che tu prendi 2000 euro al giorno per fare questa cosa però me la faresti gratis quel punto è ovvio che la risposta è no io i 2000 euro li voglio viceversa se è un lavoretto veloce per cui uno dice ci metto 15 minuti veramente perché ho il set già allestito devo solo fotografare un oggetto in più lo metto lì gli do una pulita e te lo mando ci ho messo veramente 10 minuti in quel caso posso essere io a dire dai dammi sto cavolo di roba te lo fotografo gratis non ti preoccupare siamo a posto così offrimi una birra può essere che capiti una situazione di questo tipo ma sono io che lo decido nel momento in cui qualcun altro decide di prendere un cliente gratis magari lo sta togliendo a me e io non gliel'avrei fatto gratis quel lavoro perché non si tratta di un amico che ti dice non è che mi fai una foto col mio figlio che è appena nato quella è una roba che te la posso anche regalare ma ma con gioia cioè sei un amico te la regalo una foto con tuo figlio appena nato ci mancherebbe però quello non è un lavoro che mi veniva retribuito tanto nel momento in cui un fotografo non professionista prende un lavoro che a me sarebbe stato retribuito tanto e lo fa gratis mi ha fatto un danno grosso mi ha fatto un danno grosso per due motivi il primo è che io non vedo i miei soldi il secondo motivo è che questo fotografo con tutto il carico il bagaglio emotivo e tutti gli handicap di cui abbiamo già parlato nel corso di questo video andrà a fare quel lavoro e lo farà male lo farà male perché non ha la mia attrezzatura che io mi sono pagato con i soldi dei lavori che mi sono fatto dare non ha la mia esperienza perché io ho lavorato anche per clienti alti clienti che pagavano e l'ho fatto anche perché mi facevo pagare non facendomi pagare difficilmente avrei preso lavori che poi ho preso per cui questo lavoro che questo fotografo sta facendo è devastante per me perché io non sto vedendo i miei soldi e quel cliente è perso perché quel cliente facendosi fare un lavoro che non va bene da un fotografo che non crede lui per primo nelle sue capacità non chiamerà mai più me o un altro fotografo professionista perché si fa un'idea sbagliata del lavoro si fa l'idea che poteva farsele da solo perché non sono venute tanto bene non sono venute come le voleva non rispecchiano quello che lui aveva in testa e quindi la prossima volta se le fa da solo oppure richiama quello che è andato gratis ma ma probabilmente neanche perché se non è contento la sua idea sarà sti fotografi le fanno male ormai col telefonino vengono meglio e quindi me le faccio da solo la volta prossima quindi è un danno enorme per me quando qualcuno prende un lavoro senza farselo pagare ora veniamo a una questione che ho capito vi interessa molto ovvero è etico farsi pagare un lavoro anche se non siamo capaci di farlo ora vi ripeto io vi dico la mia opinione qui e adesso quest'opinione cambia nel tempo perché ci sono stati momenti nella mia vita in cui ero convinto che non avrei mai potuto farmi pagare per il mio lavoro e quindi ero convinto che lavorare gratis andasse bene ci sono parimenti stati dei momenti in cui mi sono detto mai più farò una sola cosa gratis io senza vedere il conio non mi alzo nemmeno dal divano diciamo che sono opinioni un po estreme adesso diciamo che navigo in una sana via di mezzo come avrete capito dalle mie parole in questo video il punto però qual è io posso capire che un giovane fotografo dica io adesso questo lavoro lo faccio gratis perché mi serve da portfolio per prendere quel cliente lì quindi io faccio un lavoro gratis per andare da quel cliente lì e dirgli vedi che io lo so fare questo lavoro mi paghi per fartelo anche a te questo è l'unico caso in cui io concepisco che si lavori gratis a meno che come detto a meno che non sia un amico un parente allora va bene ma altrimenti questo è l'unico caso in cui si può lavorare gratis ma una volta cioè non è che se io voglio fare il fotografo di matrimoni faccio 160 matrimoni a gratis per poi avere un portfolio no ne faccio uno di matrimonio gratis e a quello successivo dico guarda ne ho fatti un po questo è l'unico che mi ha dato il permesso di utilizzare le foto per la mia attività quindi questo è il mio portfolio prima o poi ne prendi un altro e con il prossimo arricchisci il tuo portfolio ma non ne fai 300 gratis capito cosa voglio dire cioè non deve divietare l'abitudine a lavorare gratis io posso capire che uno dica ferrari tu hai fatto tanti lavori in ambito fotografia industriale va bene quindi io ho un portfolio di fotografia industriale sì io capisco che un fotografo inesperto alle prime armi dica io non ho un portfolio di fotografia industriale quindi faccio dei lavori di fotografia industriale per farmi un portfolio posso capirlo ma fanne uno di lavoro però non farne dieci perché me ne hai tolti nove a me facendo così nove che magari a me davano dei soldi e nove che a te non daranno mai più dei soldi perché ormai sei andato gratis la prossima volta o se le fanno da sole o chiamano me perché magari non sono contenti di quelle che gli hai fatto quindi comunque è a perdere nel momento in cui le facciamo facciamole bene non facciamole con sufficienza perché tanto è gratis facciamole al nostro meglio e cerchiamo di farle con l'obiettivo di andare a prendere un altro cliente più grosso se no non è servito a niente abbiamo perso tempo noi fatto perdere tempo al cliente fatto perdere tempo anche a me che devo cercarmi altri clienti perché quelli lì ormai sono bruciati la domanda che molti mi fanno è ma se io non sono capace che magari è il mio primo matrimonio posso farmi pagare lo stesso allora ragazzi di nuovo io su questa cosa posso cambiare idea ma se me lo chiedete oggi la mia risposta è assolutamente sì potete farvi pagare questo per almeno due ottime ragioni la prima è che comunque state lavorando quindi non siete lì a divertirvi anche se non siete i migliori sul campo anche se non siete dei fenomeni vi fate pagare lo stesso vi fate pagare di meno magari se io prendo 2000 euro al giorno per andare a fotografare le sedie del signor ikea voi non prendete 2000 euro al giorno ne prendete 300 e gli state già facendo un regalone sta risparmiando 1700 quindi è evidente magari poi che non le fate altrettanto bene però è anche evidente che c'è una differenza di prezzo ora un cliente alto sa benissimo che se sta spendendo 2000 avrà una cosa se sta spendendo 300 ne avrà un'altra nel momento in cui il vostro cliente non capisce questa cosa è un cliente basso è automatico e con un cliente basso potete provare a chiedere la cifra che volete tanto non capirà la differenza tra un lavoro fatto bene un lavoro fatto male proprio per il semplice fatto che è un cliente basso quindi signor ikea lo capisce benissimo se gliele ho fatte bene o se gliele ho fatte male le foto un'attività con una linea bassa non la capisce la differenza le guardano e dicono se può meglio che col cellulare però se lì è cioè non la capiscono questa cosa non hanno la cultura dell'immagine per capirla quindi ci facciamo anche meno scrupoli a chiedergli una cifra perché tanto ci diranno sì o no basandosi su altri parametri che non sono in la nostra competenza o il nostro talento ma sono semplicemente ce li ho i soldi in questo momento o sbatti di farmelo da solo oppure preferisco dare due soldi allo scugnezzo saranno questi parametri di un cliente basso per cui secondo me facciamoci pochi scrupoli a chiedergli dei soldi non chiediamo delle cifre esorbitanti ovviamente perché non siamo dei luminari in materia chiediamo un po di meno chiediamo una cifra calmierata ma chiediamo comunque qualcosa per tutti i motivi che vi ho detto prima un cliente che paga qualcosa è meno propenso a rompervi le scatole perché comunque ha una percezione di un valore anche se minimo del lavoro che gli state facendo un cliente che paga qualcosa non si abitua che il lavoro è gratis un cliente che paga qualcosa non ha una percezione di voi come dei minus abens che non hanno niente da fare dei perdi giorno che stanno lì a giocare con la macchina fotografica un cliente che paga qualcosa sarà comunque un minimo educato a capire che ha avuto in relazione a quanto ha pagato se voleva qualcosa di più si poteva fare ma doveva spendere proporzionalmente di più perché così funziona come in tutto in ultima istanza tenete anche conto che i clienti insoddisfatti e rompiscatole ci sono sempre ci sono che stiate lavorando gratis ci sono che stiate prendendo una cifra inferiore a quello che è il vostro reale valore e ci sono anche se avete chiesto i famosi 2000 euro al giorno il cliente rompiscatole c'è sempre la differenza qual è che nel momento in cui il cliente ha pagato 2000 euro io sono al suo servizio e per tutte le sue paturnie sono lì a sistemargliele a fargli vedere che c'è una soluzione a fargli le cose esattamente come lui le vuole perché se ha pagato 2000 euro al giorno e magari io ho lavorato tre giorni io per quel mese sono a posto quindi posso dedicare tutte le mie energie alla soddisfazione di quel cliente così dovrebbe essere nel momento in cui un cliente ha pagato 300 euro e avrà magari le stesse pretese del signorichia che pagava 2000 io farò molta fatica a star dietro a tutte le sue richieste perché con 300 euro significa che dovrò trovarmi nei altri 4 di clienti come quello almeno per chiudere il mese 4 anche di più anche 6 per cui farò fatica a quel punto starò lavorando tantissimo per tanti clienti tutti con uguali richieste tutti che pagano poco immaginatevi dei clienti che non pagano avranno le medesime richieste saranno ugualmente rompiscatole però ci staranno facendo perdere tempo perché noi a quel punto siamo abbiamo il mese interamente scoperto e quindi stiamo facendo fatica senza guadagnare niente beh a cose che in fondo sapevamo già il lavoro deve essere retribuito il lavoro deve essere retribuito proporzionalmente alle nostre capacità quindi è evidente che se valiamo tot non possiamo chiedere meno di tot è altresì evidente che se lo facciamo per hobby se non siamo professionisti non andremo a chiedere 2000 euro al giorno andremo a chiedere una cifra calmierata ma è comunque buona norma chiederla quella cifra se il cliente non è disposto a pagare quella cifra non è un cliente ed è meglio se ci troviamo qualcos'altro sia per fare portfolio sia se stiamo giocando per il nostro gusto andiamo a cercarci qualcos'altro andiamo piuttosto a cercare una situazione di collaborazione perché piuttosto che andare a lavorare gratis piuttosto andiamo a collaborare con delle persone che condividono con noi una specie di progetto un percorso dove possiamo creare una sinergia ma andare a lavorare gratis ripeto a meno che quel lavoro non ci serva per prendere un lavoro più alto io posso capire se si va a fare delle fotografie al falegname sotto casa per fotografare due sedie in modo da andare dal signor Ikea di gli guarda so fotografare le sedie mi fai fare le tue quello lo capisco ma è l'unico caso per tutto il resto cerchiamo di farci pagare proporzionalmente a quello che percepiamo essere il nostro valore se avete dei dubbi su quale sia il vostro valore su quale sia la cifra che dovete chiedere scrivetemelo nei commenti oppure contattatemi in qualche altra maniera che preferite così avremo modo di approfondire e di capire quanto dovete chiedere in base alla vostra esperienza competenza e alla vostra strumentazione anche se attenzione se vi manca la strumentazione quella si può noleggiare per cui nel momento in cui un cliente vi dice serve un lavoro con una strumentazione fantascientifica voi non ce l'avete ok te la metto dentro nel preventivo e la noleggio non facciamoci fermare da queste stupidate quando dobbiamo fare un lavoro con una strumentazione che non abbiamo si noleggia non ci sono problemi non facciamo diventare un problema qualcosa che non lo è bene amici come già detto per tutto quello che volete chiedermi io vi aspetto giù nei commenti vi ricordo di iscrivervi al canale così non vi perdete eventuali prossimi episodi sempre su questo tema o su altri temi di fotografia e videomaking e design che potrebbero interessarvi molto per cui cliccare sull'iscrizione è completamente gratuito la campanella è ancora più gratuita mettete anche un like a questo video perché tutti i soldi che guadagnerete da oggi in poi saranno per merito mio con questo io ho finito e vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale